Le modifiche all'istituto della prescrizione non potranno valere per i processi penali già in corso come quello per il disastro di Viareggio. Questo il ministro della giustizia Andrea Orlando lo aveva già detto qualche giorno fa al termine del processo celebratosi a Lucca. Proprio questa mattina però sempre a Lucca a margine del convegno sulla tutela dei beni culturali il ministro ha ribadito il suo impegno affinché la riforma al codice penale vada avanti anche perché si tratta di un dovere verso i familiari delle vittime della stazione di Viareggio ed ha annunciato che il disegno di legge sulla riforma del codice penale e la giusta durata dei processi sarà all'esame di Camera e Senato il prossimo mese. La questione della prescrizione è chiesta dai familiari delle vittime della strage di Viareggio. Chiedono una revisione. Lei che cosa risponde? Rispondo con il fatto che è tre anni che mi sto battendo per l'approvazione di una modifica della legge che riveda l'istituto. L'ho detto anche personalmente incontrando loro e continuo con determinazione in questo senso e riscontro senza abbandonare la presa riscontro il fatto che è stato deciso che all'inizio di marzo, il primo di marzo, è calendarizzato il provvedimento. Mi auguro che questa sia la volta buona. Me lo auguro per molte ragioni ma tra questo anche per dare una risposta a chi ha subito una così forte disattenzione alle proprie aspettative.